Io ho iniziato a fare Feldenkrais prima del lockdown. Me l'aveva consegnato una mia amica e collega e ho iniziato a frequentare questo corso per curiosità, perché non conoscevo Feldenkrais. Ho sempre fatto ginnastica, ho praticato per molti anni pilates, yoga, però non conoscevo Feldenkrais e ho deciso di avvicinarmi a questa disciplina per curiosità e anche perché frequentavo i corsi insieme a questa mia amica e di conseguenza insieme è sempre più piacevole fare la cosa. Con l'andare del tempo mi sono accorta che Feldenkrais mi ha sciolto, per così dire. Io sono sempre stata molto contratta, sempre sulla difensiva, anche inconsciamente. Mi sono accorta invece che piano piano, certo con tempo e costanza, ho iniziato a sciogliermi anche a rendermi conto, ad ascoltare il mio corpo e a sentire, a rendermi conto quando sono stessa e automaticamente a lasciarmi andare. Quindi questa cosa mi ha molto piacevolmente stupito. Ho detto, pensavo che fosse una cosa così, invece piano piano, semino, semino, passo passo, attecchisce e quindi mi sento meglio. Mi sento meglio e poi mi piace moltissimo il discorso di seguire le lezioni online perché viaggio molto spesso e quindi non sempre è possibile andare in palestra e essere presente. Invece in questa maniera riesco a seguire le lezioni anche a distanza. Quindi sono molto molto contenta, grazie ragazzi per avermi fatto scoprire questo nuovo mondo. Bene, ciao a tutti!